Senti Ricchi, sei l'unico, dimmi. Ma tu, lo conoscevi uno che si chiama Bracco di Graci? Ma certo che sì, certo che sì, era della scuderia Dalla. Grande Ricchi. L'ultima volta ci siamo visti a Forte dei Marmi, credo. O Mastra Carrarbo, non mi ricordo. Era Lido di Camaiore. Ah, Lido di Camaiore, che tu eri in bicicletta, eh? Esatto, e ti sono venuto a salutare che tu avevi il tour con altri chitarristi. Esatto, esatto, grande Bracco. Ti vedo benissimo. Mi sembri un po' mini, però va bene. Sì, devo dire che ho sbocciato con queste cuffie, perché non sapevo come... Sono un po' inesperto con le dirette. Non lo so se è la generazione Dalla che crea delle pippe su internet, ma entrambi siete una pippa su internet, quindi... Allora, diciamolo pure. Diciamolo pure. Chi ha permesso questa diretta è stata mia figlia. e Red passava da un artista a un altro dicendo passa un altro caso clinico. Ed ero io per il caso clinico. Guarda, quasi quasi faccio vedere le prove, perché l'ho registrato. A un certo punto ho registrato la prova. Quindi quasi quasi... Eh sì, eh? Eh sì, perché eri troppo divertente. Stavo mangiando il pollo. Da un altro caso clinico, eccolo qua. Sono il caso clinico. Adesso vi sento e vi vedo. Cioè, no, adesso non ti vedo, però. Vedo il mio collasso. Vedi te che stai mangiando. Ok? Esatto. Vabbè, dopo sistemi l'inquadratura meglio, fatela sistemare da tua figlia. Ma sì, ma... Vai tranquillo, dopo cambio anche stanza. Mi trucco, faccio di tutto. Volevo dire a Portera che quando io ero ragazzino andavo a vedere, anche Dalla, per vedere Portera. Perché Portera è sempre stato un chitarrista veramente eccezionale. E io mi ricordo un sacco di concerti dove sono venuto, ero ragazzino, e andavo proprio per vedere Portera, anche Portera. Soprattutto Portera. Io ti ringrazio. No, ma guarda, guarda, guardate che Ricky Portera ha un tocco di chitarra. Te lo volevo dire quando ascoltavamo il brano Un'Emozione. Hai un tocco di chitarra che è unico. Tu sai far piangere la chitarra in una maniera che nessuno riesce. Straordinario. Cogliamo l'occasione per ricordarci di chi mi ha insegnato questo. Che se ne è andato proprio in questi giorni, che era il signor Jeff Beck. Io devo tanto a lui. Devo tanto a lui perché mi ha insegnato l'umiltà sulla chitarra. Cosa che ho preso in considerazione dopo con gli anni, perché subito volevo fare il fenomeno da baracone. Però dopo mi è tornata fuori quest'anima e io la devo tutta a lui, al signor Jeff. Grazie Ricky. Ciao Ricky. Grazie a te. Ciao Ricky. Ciao Ricky. E che Dio si bene dica. Ciao Bracco. Ciao caro. Allora Bracco. Allora. Ciao Red. Buonasera. E ciao a tutti. Allora partiamo subito. Dunque, lui è Bracco di Graci. Bracco di Graci, diciamo, all'inizio inizia come autista di Lucio Dalla. Dopodiché fa Castrocaro, vince Castrocaro, va due volte a Sanremo. Questo nel 91. Cioè dal 91 in poi. Poi dopo improvvisamente tu dal 98 smetti di fare canzoni e vai a fare l'operaio. Perché hai smesso intanto Bracco? Ma ho smesso perché sono accadute delle cose che non mi facevano più, come dire, vibrare il cuore. E secondo me la musica si fa quando tutto funziona come deve funzionare. E quindi in quel periodo lì ho deciso di darci un taglio, ho capito. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita. Adesso ovviamente sia io che Ricchi abbiamo lavorato con Lucio. Quindi Lucio in questa serata è sicuramente il personaggio più importante. Anche nei nostri ricordi. Io ho conosciuto Lucio nel 1987 perché andavo a casa sua a, come dire, cercare di conoscerlo e portargli la mia musica. Dopodiché non riuscivo a incontrarlo e diverse volte con la mia fidanzata ci fermavamo sotto casa. E io suonavo il campanello in Vicolo Mariscotti. Alcune volte lui mi rispondeva con una vocina da donna, non sono in casa. E io capivo che era lui, facevo finta di niente. E mi diceva, ripassa più avanti. Dopodiché una sera, hai capito, io sono andato al cinema con un mio amico, tornando verso casa, ci fermiamo in Vicolo Mariscotti, metto una musicassetta dentro la sua buchetta delle lettere e Lucio arrivava con Renzo Cremonini e mi dice, cosa stai mettendo lì dentro? E io, ah niente, signor Dalla. Io lo chiamavo signor Dalla. Lui si incazzava. Semplicemente una cassetta, volevo fargli sentire le mie canzoni. Allora lui, poi dicendomi, gli hai messo nome, cognome, indirizzo? Ovviamente. Mi chiama dopo dieci giorni e mi offre la possibilità di fare l'autista per lui. Allora io gli dico, Lucio, guardi che io non credo di essere adatto a fare questo lavoro, in quanto per le strade sono veramente un disastro, capito? E lui mi dice, se tu non sai arrivare in Piazza Maggiore con l'automobile, sei il mio autista perfetto. D'altronde lui era matto, hai capito? Così io ho cominciato a vedere questo grandissimo genio, come dire, come si approcciava nelle canzoni, come lavorava e ho cominciato ad apprendere tantissime cose. Per me Dalla ha rappresentato una scuola indiretta che non esiste in natura. Quindi poi ho scritto il mio primo brano Ti comunico amore, che poi, come tu sai, Dalla ha deciso che dovesse cantarlo il grandissimo Gianni Morandi e così, diciamo, è cominciata la mia storia in qualità di autore. Quindi Lucio è stato molto importante, capito? Per la mia creatività. Devo dire però che io non ci andavo proprio d'accordissimo. Avevamo diversi scontri e quindi a volte succede che le cose finiscono. Per rispondere alla tua domanda, insomma. Quindi tu hai vissuto Lucio da due punti di vista. Il primo è come autista lo portavi in giro e quindi sentivi quello che diceva come viveva normalmente. Quindi vedevi Lucio persona. Ma assolutamente. Felicità Lucio Dalla l'ha scritta di fianco a me mentre lo accompagnavo a San Giovanni Rotondo. Hai capito? Poi quando giravamo in macchina lui siccome aveva era molto contento di come guidavo perché io ho il piede fermo poi ho una grande resistenza sulla guida. quindi io mi io mi sparavo dei Bologna Milo tutti di un fiato sono 1500 chilometri quindi lui diceva la sua frase ricorrente che era Bracco non mi uccidere perché adesso mi faccio un pisolino. Allora gli dicevo dormi sonni tranquilli e si risvegliava ogni tanto hai capito? E quindi questo era diciamo l'entourage. Dunque tu nel 98 tagli tutto vai a lavorare dove vai a lavorare? Allora la verità è che io mi sono licenziato da autista nel 1989 e infatti il mio posto è stato preso dal cugino perché ho visto l'intervista che hai fatto col cugino quando io me ne andai perché insomma abbiamo avuto un po' di problemi problemi di cui non parlerò mai e quindi io mi licenziai nel 1998 no 99 e Dalla non ha accettato 1989 Bracco 1989 bravissimo perché sì ho cominciato nell'88 Dalla non ha accettato il mio diciamo licenziamento nel senso che mi chiamava spesso avrebbe voluto che io tornassi a lavorare con lui però insomma io non non ero più intenzionato a proseguire il mio discorso da autista così lui un giorno mi chiama e mi dice senti ma con le canzoni che cosa stai facendo perché tu insomma hai scritto ti comunico amore voglio capire cosa stai facendo con le canzoni allora io gli dico ma guarda Lucio grazie al fatto che ho lavorato con te io conosco ho conosciuto un sacco di discografici mi sto provinando tre brani che erano vivo muoie vivo negativo e legno bagnato sono tre brani del mio primo album e Lucio al telefono mi disse anche devo dire in modo un po' pesantuccio mi disse non ti azzardare a far sentire le tue canzoni a chi che sia se prima non le vieni a far sentire a me allora io gli dico ma Lucio che problema c'è io se tu vuoi sentire le mie canzoni per me è un grande onore per me sei il numero uno cioè capito io non ci avevo pensato per non disturbarti così abbiamo mi ha dato questo appuntamento io avevo finito questi tre brani e sono andato in pressi e lui si è messo con la sua solita mano qua con gli occhi chiusi e ha ascoltato vivo muoie vivo otto volte otto volte l'ha ascoltata non mi ha neanche chiesto se io volessi lavorare con lui ha chiamato il suo ufficio e gli ha detto preparate un contratto per il Bracco ha scritto dei pezzi straordinari lo voglio mandare a Castrocaro io sono diventato un pezzo di ghiaccio hai capito quindi tutto nasce nasce così in modo molto semplice ti ho spiegato un po' come sono andate le cose in quel periodo poi c'è stata la vittoria di Castrocaro una vittoria un po' roccambolesca però alla fine hanno detto che ho vinto io perché tu sai cosa è successo a Castrocaro no cioè a Castrocaro praticamente prima ha vinto una ragazza poi con un imbarazzo pazzesco di Gigi Sabani hanno ricontato hanno rifatti i conteggi e hanno detto che aveva vinto un'altra ragazza poi hanno ricontato un'altra volta e hanno detto che hanno vinto insieme quindi si è spenta la tv su Castrocaro che c'erano queste due ragazze che avevano in mano questa coppa e siamo andati tutti a dormire io ero già andato a casa a letto alle tre e mezzo del mattino tre e mezzo quattro del mattino mi chiama il cugino Andrea Faccani dicendomi guarda che dobbiamo tornare a Castrocaro perché hai vinto te allora io la prima cosa che mi è venuta spontanea è stata quella ma dai mi state prendendo per il culo è finito tutto tant'è vero che io non volevo andare hai capito io mi ero anche impuntato perché non volevo andare a ritirare quel premio hai capito perché mi sembrava tutta una cosa assurda hai capito poi mi ha chiamato Lucio mi ha detto no no devi assolutamente andare e quindi sono andato con un imbarazzo pazzesco e quindi alla fine hai capito io ho vinto alle cinque e mezzo del mattino hai capito non la conoscevi questa storia è una roba guarda veramente incredibile una roba incredibile io ero già a letto in pigiama hai capito ascolta però tu smetti e vai a lavorare in fabbrica nel 98 allora sì io nel 98 sono andato a lavorare in una fabbrica che si chiamava Lance People era una fabbrica che faceva abiti di altissima moda io ero addetto alla visione delle stoffe un lavoro di merda Redrone una cosa pazzesca c'era questa macchina con una luce pazzesca davanti all'interno della quale passavano queste stoffe e io dovevo visionare che le stoffe non avessero dei falli quando la stoffa aveva dei falli io dovevo metterci dello scotch cosicché quando le tornavano a srotolare hai capito per il taglio evitavano diciamo evitavano di creare un vestito con un fallo capito quindi era una roba terrificante così Lucio mi ha chiamato io ho lavorato credo sei o sette mesi alla Lance People quando mi sono licenziato da autista poi io se devo essere sincero non mi sarei mai aspettato che Dalla mi facesse un contratto discografico cioè per me però tu finisci la tua carriera di cantante la finisci nel 98 sì nel 98 ho fatto il mio ultimo album che si intitola Lo specchio perché insomma anche lì sono sono sorti un po' di problemi non lo so per quale ragione ma sui miei lavori sorgevano sempre dei problemi e quindi io diciamo che ho incontrato Roberto Danè che era un produttore che mi faceva sempre dei gran complimenti e lui ha voluto produrmi questo questo album però insomma è stata una ricucitura insomma capito quindi io non in quel periodo mi sentivo fuori contesto hai capito quindi siccome nella mia vita ho sempre lavorato ho cominciato a lavorare che avevo 14 anni quando ho visto che le cose non funzionavano come mi aspettavo io ho deciso di darci un taglio io sono sempre per i tagli netti quando devono cioè quando prendo la la strada di tagliare io do sempre dei tagli netti e da allora hai smesso cioè tu non hai da allora ho 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 smesso anche se ho scritto diversi brani per Gianni Morandi che poi non è che io ho scritto dei brani per Gianni Morandi cioè io ho scritto delle cose poi mi sembravano interessanti per Gianni Gianni devo dire che è una persona meravigliosa perché non lo sentivo da quasi dieci anni ho fatto il numero di telefono e Gianni Morandi mi ha risposto ciao Bracco così gli dico Gianni io ho scritto delle cose se ti va magari te le faccio sentire e gli ho scritto solo chi si ama veramente che poi lui ha corretto anche una parte nel testo e che è diventata un grande successo quindi ho scritto due o tre brani per Gianni Morandi perché solo chi si ama veramente Tu sei nel mio presente che ha cantato con Alessandra Moroso che poi è diventata anche la sigla di un suo programma Grazie a tutti e poi un altro brano che si intitola Tu sei nel mio presente dove c'è anche una collaborazione con il grandissimo Mauro Malavasi e poi basta e poi basta poi basta e poi niente io sono praticamente 23 anni che lavoro in un'azienda lavoro alla Toyota al Material Eldling io montavo le cabine dei carrelli allevatori adesso mi hanno cambiato mansione perché sono un po' più anzianotto e perché dicevi perdonami perché sei tornato fra l'altro c'è Fabio Torre che scrive ciao Bracco te lo dicevo che sei tornato a cantare prima o poi un abbraccio a Fabio Torre da Caserta allora adesso ti spiego allora il senso di questo album è lasciare delle tracce di me delle tracce di me più contemporanee diciamo allora nel 1917 io sono stato alla festa di un compleanno di una mia carissima amica che tu conoscerai anche tra le altre cose perché è la Stefania Shantle no non la conosco non la conosci va bene comunque sono stato al compleanno di questa mia carissima amica e il suo fidanzato gli ha preparato un bellissimo compleanno con una band e mi chiede di cantare due brani e lì ho incontrato un grandissimo produttore arrangiatore e programmatore che si chiama Giordano Mazzi che è il programmatore di Celso Valli e così ci siamo messi a parlare e lui mi dice ma scusa ma tu avevi dei brani che a me piacevano quindi si ricordava di Negativo di Guardioladro di Uomo ah ti fermo aspetta Bracco Gabriele Gargano io con te ho girato Negativo e ho ancora il video giramo anche a casa tua Borgo Panigale e poi ci fu Sanremo esatto 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 adesso io mi scuso con Gabriele Gargano sono passati tanti anni che magari in questo momento non mi ricordo la fisionomia però sì è andata è andata così abbiamo girato Negativo e poi probabilmente ci fu Sanremo però torniamo a al produttore al produttore esatto quindi niente Giordano Mazzi praticamente è quello al quale dobbiamo dare la colpa di tutto questo perché lui mi ha detto no ma dai devi fare delle cose capito quindi mi ha mi ha un po' spinto a fare delle cose mi ha chiesto se avevo dei brani nuovi io avevo un paio di brani nel cassetto così gli ho portati lui ci ha lavorato devo dire che quando io li ho sentiti sono rimasto a bocca aperta perché veramente ha un gusto musicale veramente fortissimo capito così probabilmente per me essere rientrato dentro lo studio quelle atmosfere che si creano la notte capito le casse il mixer quelle cose lì non lo so mi si è riaperto qualcosa nel cervello ho preso la chitarra impolverata il pianoforte impolverato e mi sono rimesso a scrivere così è nato questo album di 11 inediti che ce la siamo presa proprio comoda perché comunque noi abbiamo lavorato quando avevamo tempo perché io ovviamente ho il mio lavoro lui lavora con Celso quando avevamo tempo il sabato e la domenica noi ci mettevamo lì la notte buttavamo giù le cose io gli portavo i pezzi lui faceva gli arrangementi pianin pianin pianino in cinque anni cinque anni ci abbiamo messo per fare per fare questo album capito proprio perché non ci aspettavamo niente e non avevamo come dire nessuna meta non io l'ho fatto proprio per il gusto di di farlo per amore per amore della musica hai capito solo che è nato un album che ci è sembrato molto interessante e quindi abbiamo pensato perché non dargli una chance capito poi lui ha portato dentro dei musicisti pazzeschi perché le batterie le ha suonate Lele Melotti il basso l'ha suonato Lorenzo Poli le chitarre le ha suonate Mattia Tedesco i mixaggi sono stati fatti da Carlo Miori e poi ci è sembrato tutto veramente interessante abbiamo fatto anche il mastering allo Sterling Studio di New York quindi è un album che a livello di produzione secondo me è l'album prodotto meglio di tutta la mia storia capito allora abbiamo parlato tanto ci ascoltiamo Così è la vita che è un gran bel video che avete girato al volo in un edificio questo video questo video è è è incredibile perché mi stanno arrivando veramente dei grandi consensi e io sono anche sorpreso perché guarda questo video è stato girato da un regista videomaker che si chiama Oscar Serio che è è una cartola incredibile e quando ha sentito il brano mi ha detto guarda io ho la location perfetta per questo brano mi porta in una fabbrica abbandonata hai capito dove c'è una luce meravigliosa cioè sembrava veramente di essere in un altro pianeta capito e l'abbiamo girato in due ore Red te lo giuro l'abbiamo girato in due ore abbiamo fatto dieci take poi lui l'ha montato e tutti quelli che vedono questo video rimangono come dire molto sorpresi quando io dico che l'abbiamo girato in due ore ma è la pura e sacrosanta verità così è la vita Bracco di Graci in quelle sere senza impegni quando ti siedi a volte sogni sono più evidenti i segni dentro te e cerchi tra le convinzioni quelle possibili ragioni ma niente sembra poi convincere non vuoi la colpa di ogni cosa ti chiudi sempre in quella scusa che tanto puoi il destino fa come vuole lui per ogni analisi sbagliata per ogni scelta non curata ci sarà sempre molta vita che non ti sarà scontata se bisogno sai di interrogarsi perché è facile e sbagliarsi e fare pace con se stessi volersi bene a tutti i costi rialzarsi sempre quando cali siamo un po' tutti come roghi così è la vita per ogni scelta non basterà non basterà che ci si impegni per non sentirsi spesso soli puoi soffocare puoi soffocare i tuoi dolori ma non vincerli diventerà una convivenza che non potrai più farne senza ma ti ci abituerai e la gestirai per ogni scelta non curata per ogni analisi sbagliata ci sarà ci sarà sempre molta strada che non ti sarà spianata c'è bisogno sai di perdonarsi perché è facile sbagliarsi e fare pace con se stessi volersi bene a tutti i costi rialzarsi sempre quando cali siamo un po' tutti come roghi così è la vita così è la vita così è la vita e fare pace con se stessi volersi bene a tutti i costi rialzarsi sempre quando cali siamo un po' tutti come roghi così è la vita così è la vita così è la vita spettacolo così è la vita hai visto i complimenti non puoi smettere adesso io ti dico la verità Red credo che sia uno degli album più interessanti che ho scritto è chiaro che non dipende da me capito perché come tu sai ho anche visto la tua diretta con il grandissimo Ron oggi è cambiato tutto capito quindi io negli anni 90 mi passavano praticamente tutte le radio capito quindi oggi è cambiato il mondo le radio non sono inclini a passare alcune canzoni quindi dipende dall'interesse del pubblico allora tu devi avere con te i cd e devi fare dei piccoli spettacoli dal vivo e ci stiamo pensando devi partire da lì devi partire dal vivo appena avrà un programma dove c'è musica dal vivo verrai e sarà un inizio anche televisivo questo è un inizio televisivo questa è televisione anche se in collegamento però e quindi capito fra l'altro ti ringrazio ti ringrazio molto Red tu sei un pioniere della musica infatti io ho una grande stima nei tuoi confronti perché oltre ad essere un uomo vero un giornalista vero cioè voglio dire quello che tu stai facendo per la musica è qualcosa di grandioso lo sai te l'ho detto anche in privato quindi non è che te lo sto dicendo in pubblico perché voglio sviolinare però dopo vorrei dire anche una cosa sul brano se me lo permetti dillo ecco il senso di questo brano la chiave di questo brano è l'interrogarsi perché in questo periodo storico di grandi cambiamenti anche epocali ai quali tutti siamo purtroppo chiamati io credo che mai come in questo momento tutti i cittadini e dico tutti dovrebbero interrogarsi sul percorso che sta prendendo in generale il nostro paese e probabilmente anche il mondo intero quindi il senso di questo pezzo è sicuramente volersi bene e siamo tutti un po' come rocchi ovviamente dobbiamo rialzarci sempre anche dai momenti più difficili però ecco la chiave di questo brano è proprio interroghiamoci parliamoci confrontiamoci perché credo che mai come in questo momento storico ci sia bisogno che gli esseri umani si trovino per fare squadra io volevo dire solo una cosa alla fine al di là dell'artista che è Bracco di Graci è una persona risvegliata io ti ringrazio veramente speriamo che si risveglino in tanti perché c'è bisogno che ci risvegliamo da questo incubo ecco e alla domanda che io ho fatto tante volte dove sono gli artisti Bracco di Graci è uno di quegli artisti che io mi aspetto che scendano in campo ok grazie Bracco ciao grazie Red veramente grazie per questa grandissima opportunità che mi hai dato e ci rivediamo dal vivo molto volentieri ok ciao Bracco ciao Red ciao a tutti grazie mille Bracco di Graci bel ritorno importante di un artista risvegliato grazie a tutti grazie a tutti